Audiovisual Napoli Hub è un progetto di formazione e inserimento del lavoro destinato appunto a 80 giovani knit della città di Napoli, è un progetto sviluppato da Altra Napoli e Apogeo ETS e vede diciamo tra i vari partner i più grandi player internazionali, Netflix, Amazon, Winnie Sky, i cinecittà ed è molto bello essere qui a Giffoni perché chiaramente parliamo a una stessa platea, quella dei ragazzi chiaramente e l'idea è sempre di portare le immagini, la cultura visuale e una capacità anche di leggere quello che succede attraverso la grande lente del cinema e nel mondo dei ragazzi che sono poi quelli che effettivamente vengono maggiormente bombardati da questo flusso continuo di immagini che insomma oggi pervade l'etere. Ciao